La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato 5 tonnellate di sigarette stipate in un camion frigorifero bloccato sull'autostrada all'altezza dell'uscita di Castel San Giorgio. All'interno del mezzo due persone di nazionalità ucraina, che una volta fermati dalle fiamme gialle, hanno mostrato la documentazione relativa al materiale trasportato. Ad insospettire i finanzieri il fatto che all'interno del camion vi fossero oggetti elettronici. In realtà tali oggetti rappresentavano solo una copertura. Tolti i primi scatoli, infatti, sono state rinvenute ben 479 casse da 50 stecche cada una di sigarette, per un peso complessivo di 5 tonnellate. Le sigarette, destinate al mercato campano, erano prive inoltre del contrassegno di Stato e riportavano i marchi di tabacchi non vendibili nell'Unione Europea. La merce, il cui valore stimato di 1,3 milioni di euro, è stata sottoposta a sequestro.